Musica Società utilizzate per evadere l'IVA, Blitz della Guardia di Finanza per un'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, interdetti quattro professionisti. In tutto sono 44 le persone indagate. Occhiuto inaugura il centro vaccinale a Platì. Nel centro della provincia regina l'obiettivo è aumentare la percentuale di vaccinati. Per il presidente regionale dobbiamo avere una capacità di raccontare il paese, il valore e le bellezze della Calabria, non soltanto i suoi mali. Lo dico dal luogo che è segnalato alla comunità nazionale come un posto ricco di problemi, epicentro dell'Andrangheta. Vaccini al Vibo Center in attesa dell'ex asilo. Troppo freddo il pala Valencia per il commissario dell'ASP di Vibo, Maria Bernardi, che spiega nessuna differenza tra Pfizer e Moderna al via le somministrazioni nei bambini. La Iena Almagna Grecia Experience. Grande entusiasmo e partecipazione degli studenti per l'incontro con Filippo Roma. Nell'abituale abito in bianco e nero, l'ospite della rassegna ideata da Gianvito Casadonte ha raccontato sul palco i suoi esordi prima del successo. Buonasera e ben ritrovati nell'edizione serale del nostro OTG. Come sempre un saluto dalla nostra redazione, lo avete sentito dai titoli del sommario. Apertura che dedichiamo alla cronaca e in particolare all'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Bombardieri e che ha portato alla scoperta di un sistema di evasione fiscale messo in piedi da alcuni commercialisti. Sarebbero in tutto quattro i professionisti interdetti, mentre sono in totale 44 le persone indagate, sequestrate invece beni per un totale del valore totale di 8 milioni di euro. Tutti i dettagli nel primo servizio di questa sera. Divieto di esercitare la professione di commercialista nei confronti di quattro professionisti di Reggio Calabria, oltre al sequestro preventivo di uno studio commerciale di consulenza, quello di immobili, autoveicoli e risorse finanziarie per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Le misure sono state disposte dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia a Reggina, avrebbe fatto luce su un sistema di evasione fiscale messo in piedi da alcuni commercialisti che in modo seriale e sistematico consentivano ai clienti un risparmio di imposta in termini di mancato versamento del dovuto all'amministrazione. In tutto sono 44 gli indagati, mentre dalle indagini sarebbe emerso un sodalizio criminale messo in piedi dal commercialista Salvatore Virzi e da Giovanni Barilà. Amministratore dello studio Fiscality Project Management nei loro confronti è stata disposta all'interdizione dalla professione di commercialista o consulente del lavoro, così come per Antonino Malaponti e Riccardo Toscano, indagati per Associazione Claudia Piccolo, Carmela Caccamo, Domenico Diano e Salvatore Berlingeri. I reati contestati si sarebbero consumati tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ma anche attraverso la predisposizione, la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente ed il trasferimento fittizio della sede legale e del domicilio fiscale delle imprese. Ancora cronaca perché il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia ha intensificato la vigilanza sui passeggeri e i pullman di linea che collegano il sud Italia con l'estremo Ponente Ligore e l'11 dicembre scorso i finanzieri hanno sottoposto a ispezione un autobus che effettuava la linea Reggio Calabria 20 Miglia e hanno rinvenuto tra i bagagli un panetto da oltre un chilogrammo di cocaina purissima. Dunque questa è la scoperta effettuata appunto sulla linea Reggio Calabria 20 Miglia. Invece noi ci occupiamo di un'altra importante notizia di cronaca, ovvero l'arresto, la cattura dei due latitanti Morelli e Tomaino coinvolti nell'operazione rinascita Scott della DDA di Catanzaro guidata dal procuratore Gratteri e che ricorderete scattata ormai quasi due anni fa il 19 dicembre del 2019. Erano a casa i due ignari di quanto stesse accadendo sebbene a casa tra l'altro fossero armati i due appunto Morelli e Tomaino dunque sono stati catturati ieri grazie a un blitz eseguito dai carbinieri del comando di Vibo Valencia. Una fuga dunque durata poco più di due anni prima della cattura. Restano tuttavia ancora a piede libero altri due importanti latitanti sempre coinvolti nell'operazione di rinascita Scott. Si tratta di Pasquale Bonavota, ritenuto dagli investigatori il reggente dell'omonima cosca di Santo Onofrio insieme a Domenico Cugliari, suo presunto sodale. Due latitanti presi in un solo colpo. I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia hanno chiuso il cerchio attorno a Salvatore Morelli e Domenico Tomaino entrambi sfuggiti all'arresto il 19 dicembre del 2019 nel corso del blitz rinascita Scott coordinato dalla DDA di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. I due sono stati prima localizzati e poi catturati ieri sera in un'abitazione in una frazione di Briatico in provincia di Vibo Valencia mentre erano a cena senza neanche avere il tempo di capire cosa stesse accadendo mentre all'interno dell'abitazione sarebbero state trovate anche delle pistole che sono state sequestrate. Una fuga durata due anni per Morelli, 38enne noto come Turil americano e il cognato Tomaino, 29 anni, detto il lupo. Da mesi però gli investigatori si erano messi sulle tracce dei due e ieri, grazie ad un'operazione coordinata e chirurgica dei carabinieri, il cerchio si è chiuso. Nel blitz, eseguito insieme allo squadrone Cacciatori Calabria, è stata arrestata anche una terza persona, Angela Cusa, proprietaria della casa dove i due latitanti sono stati sorpresi. La donna è accusata di favoreggiamento personale. I due imputati nel maxiprocesso in corso nell'aula bunker di La Mezzia Derme che si sta celebrando dinanzi al tribunale collegiale di Vibo Valencia sono accusati di associazione mafiosa e distorsione. Ancora in fuga invece altri due latitanti, Pasquale Bonavota, ritenuto dagli investigatori il reggente dell'omonima cosca di Sant'Onofrio e Domenico Cugliari, suo presunto sodale. Adesso lasciamo questa importante pagina di cronaca. Andiamo a Platì, dunque cambiamo decisamente argomento. Ci occupiamo di Covid e vaccinazioni. Come dicevamo, andiamo a Platì dove quest'oggi il presidente della Regione Calabria, nonché commissario della Sanità della nostra Regione, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo centro vaccinale proprio a Platì che tra l'altro è uno dei centri con le più basse percentuali di somministrazione delle dosi di vaccino contro il Covid-19. Il luogo è senz'altro emblematico. Il comune di Platì è infatti uno dei capisaldi di una narrazione della Calabria legata all'Andrangheta e ad una presenza criminale che a queste latitudini ha il suo evidente e negativo peso. Ed il presidente Occhiuto infatti sceglie di legare l'inaugurazione del lab vaccinale proprio a questo tema. A Platì, il governatore della Regione Calabria, sceglie di essere presente al varo di un centro per le somministrazioni che dovrebbe contribuire ad aumentare la percentuale di vaccinati che proprio tra Platì e San Luca è nell'ordine di appena il 30%. Però Occhiuto è apprezzabile la presenza di tutte le istituzioni per dire ai cittadini che lo Stato in questi comuni c'è e che lo Stato vuole fare il suo dovere. La Calabria ha tante risorse, ha aggiunto il governatore, ma dobbiamo avere la capacità di raccontarne al Paese il valore e le bellezze. L'andrangheta va combattuta con tutte le nostre forze, ma il modo migliore di combatterla è dimostrare ai cittadini che lo Stato è presente, si occupa dei diritti ed è più forte dell'andrangheta. A proposito di Covid, secondo il bollettino sull'emergenza coronavirus diffuso dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, sono oggi 372 nuovi contagi registrati su 6.201 tamponi effettuati. I guariti sono 216, mentre oggi si registra anche un decesso. Il bollettino inoltre registra un aumento di più di 155 attualmente positivi, di 145 persone in isolamento e 12 ricoveri per un totale di 202, mentre scende a 18, e dunque scende di due unità, il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. A proposito di vaccini e Covid, andiamo adesso a Vibo Valencia, dove il commissario dell'ASP, Maria Bernardi, ha organizzato questa mattina un importante incontro. Al centro i temi legati alle criticità sul piano vaccinale, lo spostamento delle vaccinazioni dalla Pala Valencia, ritenuto troppo freddo, viste le temperature anche di questi ultimi giorni, al Vibo Center e la diffidenza riscontrata tra i pazienti rispetto al vaccino Moderna, che dice proprio la Bernardi, è lo stesso vaccino di Pfizer, cambia solo la casa farmaceutica. Sentiamo. Sono uguali, prodotti da due aziende farmaceutiche diverse, ma sono assolutamente uguali. Quindi si può fare indifferentemente Pfizer o Moderna, per cui invitiamo tutti a venire a fare il vaccino che noi abbiamo disponibile. Nel frattempo che si ristruttura l'asilo, avremo una settimana i bambini al Vibo Center. In realtà sono solo due giorni, 18, 19, sabato e domenica. Inizieremo con sabato e domenica, sia nel Vibo Center, che nell'asilo che andremo a rimettere a posto. E poi vediamo, se la flusso è tanto come noi ci auguriamo, le mamme e i papà portano i bambini piccoli a vaccinarsi, noi aumenteremo, aumenteremo anche le giornate di vaccinazione. Pala Valencia al Vibo Center, dal freddo intensissimo che c'era all'interno del Pala Valencia, non siamo riusciti a trovare un sistema di riscaldamento idoneo, sia per gli utenti che per gli operatori. Siamo stati costretti a trovare un'altra soluzione e l'unica che si è presentata dopo giorni e giorni di ricerca è stato quello del Vibo Center. A proposito di sanità, spazio adesso agli esiti della importante seduta, possiamo mai dire, della scorsa notte del Consiglio regionale, nella quale sono stati approvati importanti provvedimenti, tra cui le linee programmatiche illustrate dal governatore Occhiuto e quella poi che è stata definita una vera e propria rivoluzione nella sanità calabrese, ovvero l'istituzione dell'Azienda Zero. Sentiamo di cosa si tratta. Voglio essere misurato non per le parole che dico, che scrivo, ma per i fatti che insieme facciamo. Il messaggio lanciato ieri dal Presidente Roberto Occhiuto nella seduta del Consiglio regionale è finito a tardissima ora e nel corso del quale sono state approvate a maggioranza le linee programmatiche. Per Occhiuto la Regione si sviluppa non solo con il turismo, ma con più asset e con un grande piano di attrazione degli investimenti. A chi ha rimarcato l'assenza nelle linee programmatiche di un riferimento all'Andrangheta? Occhiuto ha replicato l'Andrangheta mi fa schifo, ma sono stanco del fatto che venga utilizzata come alibi. Poi, gli argomenti dal porto di Gioia Tauro alla depurazione, alla necessità di spingere ANAS e RFI nelle progettazioni di importanti infrastrutture. Su Sanker, il Presidente ha confermato la sfiducia alla governance degli aeroporti calabresi e ha ribadito la prospettiva di acquisire il 100% del pacchetto del privato attraverso Fincalabra. Occhiuto ha poi rivendicato con orgoglio sulla sanità di essere riuscito ad ottenere in 50 giorni quello che altri non hanno avuto in 50 anni. A nottefonda il Consiglio regionale ha approvato poi un altro dei punti qualificanti della seduta, la proposta di legge che istituisce in Calabria l'azienda Zero, nuovo ente di governo della sanità. è stato lo stesso Occhiuto ad illustrare il provvedimento un modello dice Occhiuto già praticato in altre regioni come Veneto e Lazio e che è utile a svolgere in maniera centralizzata alcune funzioni. Una proposta interessante ma di aspetti da correggere. Ne ha parlato una delle espressioni più importanti dell'opposizione del governo regionale ovvero Amalia Bruni. Sentiamo. Azienda Zero è da un punto di vista concettuale importante e interessante ma noi la vediamo come una cerniera tecnico-amministrativa quindi la proposta che è arrivata è una proposta che merita diciamo un approfondimento sicuramente diversi emendamenti perché non è chiarissimo se vuole essere una decima azienda se vuole essere una sovrastruttura che sta sopra le aziende sanitarie se queste sanitarie esisteranno ancora o meno non è chiaro o ancora se il Dipartimento Salute verrà ridimensionato o addirittura cancellato quindi nelle linee programmatiche nel Dipartimento Salute si parla come un interlocutore chiaramente efficace di una sua riorganizzazione l'azienda Zero lo cita in maniera anche molto molto risicata quindi questi aspetti sono poco chiari c'è il problema della sua noi abbiamo la sua e cioè la struttura che fa praticamente tutta la parte organizzativa è tecnica che verrà assorbita in quota parte ecco insomma ci sono tutta una serie di problematiche che vanno sicuramente affrontate e approfondite il Consiglio regionale ha anche approvato la proposta di legge in tema di razionalizzazione e miglioramento dell'offerta assistenziale nel territorio regionale in particolare la legge prevede l'unificazione dell'azienda ospedaliera della Pugliese Ciaccio e dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro soddisfazione che è stata espressa dal Presidente del Consiglio regionale Mancuso sentiamo una proposta è arrivata a luna la votazione però è stata dura ma ce l'abbiamo fatta è una proposta che in pratica crea un'azienda unica ospedaliera universitaria su Catanzaro e quindi si fa questa fusione per incorporazione tra università e azienda ospedaliera Mater Domini e Pugliese Ciaccio che crea un polo universitario ospedaliero uno dei più grandi del meridione e speriamo che questo sia di buon auspicio per il miglioramento dell'offerta sanitaria che ovviamente come ben sapete tende a incentivare finora la migrazione sanitaria Cambiamo decisamente l'argomento andiamo a Cosenza dove questa mattina sono stati consegnati in prefettura i diplomi delle onorificenze al merito della Repubblica conferite direttamente dal Capo dello Stato sentiamo a chi questa mattina in prefettura a Cosenza sono stati consegnati i diplomi delle onorificenze al merito della Repubblica italiana recentemente conferite dal Capo dello Stato ai cittadini residenti nella provincia Abruzia l'ordine è il primo fra i cavalereschi nazionali ed ha lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle scienze delle lettere delle arti dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche a ricevere il prestigioso riconoscimento Giosuè Angelo Giuseppe Giovinazzo vice comandante dei vigili del fuoco di Cosenza Ferruccio Martucci dirigente della divisione anticrimine della questura Abruzia Francesco Rizzo luogotenente dell'arma dei carabinieri e l'imprenditore Cataldo Torchia per me è una soddisfazione perché alla fine è una grande soddisfazione 57 anni di lavoro continuato senza mai avere nessun problema di nessun tipo dipendente tutti diciamo riconosciuti per bene tutti i diritti e quindi per me è una grande soddisfazione direi che nel panorama nazionale sia di fondamentale importanza sia per quanto riguarda gli aspetti di soccorso tecnico gente ma la cosa che spesso diciamo viene dimenticata e spesso non conosciuta in questo modo è l'attività di prevenzione di incendi che noi facciamo come si diceva nella lettura delle onorificenze conferite stamattina va il merito a tutti coloro che valorizzano il proprio territorio quindi non solo coloro che sono rappresentanti dell'arma delle istituzioni ma anche tutta l'imprenditoria locale perché ovviamente il territorio calabrese deve essere valorizzato sempre di più bene in chiusura del nostro TG andiamo a Catanzaro Almagna Grecia Experience che da alcuni giorni sta animando la scena catanzarese con illustri personaggi nella Kermes ideata da Gianvito Casadonte bene nell'edizione di oggi abbiamo visto ospite PIF adesso invece sentiamo le parole di un altro personaggio davvero molto noto soprattutto per via delle tante tantissime inchieste che ha condotto per le Iene Filippo Roma di essere loro stessi cioè di seguire la loro vocazione qualora fosse questa io all'edà loro tra i 16 e i 18 anni ho sviluppato proprio a quell'età quella passione che poi mi avrebbe portato a fare la Iene quindi il consiglio è date retta a quella cosa che vi nasce dentro che magari vi sembra impossibile no la famiglia non vuole fatelo perché se quella è la vostra passione vi accompagnerà per tutta la vita quindi siate voi stessi questo è il consiglio che mi sento di dare a tutti i ragazzi in generale poi serve grande lavoro e bisogna soprattutto avere molta forza di volontà quasi più che il talento serve la forza di volontà cioè superare gli ostacoli quelli che ti bloccano quelli che non credono in te la cosa più importante è credere in se stessi insistere e poi ovviamente tanto studio e preparazione sì beh chiaramente noi abbiamo introdotto questo stile che si chiama infotainment cioè noi leghiamo al giornalismo d'inchieste alle cose serie anche quel tratto di ironia satire e riverenza che fa delle Iene uno stile nuovo e un linguaggio prima inedito ma che ormai nel tempo addirittura è stato anche un po' saccheggiato da altri programmi da altre trasmissioni e questo siamo sicuramente un programma che ha uno stile molto personale bene l'edizione serale del nostro TG si conclude qui vi invito a seguire le prossime edizioni nel corso della serata ma vi invito soprattutto a seguire la programmazione dell'altro Corriere TV una buona serata Grazie a tutti